La città di Pescara è uno dei maggiori centri in Italia più a rischio per l'innalzamento del mare a causa del surriscaldamento del pianeta. Nell'ambito della non aggiornata internazionale contro le grandi opere inutili per la difesa del pianeta, le associazioni ambientaliste abruzzesi hanno organizzato un sit-in con volantinaggio per informare la cittadinanza. Anche a Pescara si è tenuta la mobilitazione per il clima e contro le grandi opere inutili. Sì, il problema del cambiamento climatico sta diventando veramente drammatico e deve essere considerata la priorità per tutti perché stiamo rendendo il pianeta invivibile per le future generazioni e fra i paesi le conseguenze dei cambiamenti climatici le stiamo vedendo tutti i giorni. Pescara peraltro è una delle città più a rischio per i cambiamenti climatici perché c'è l'innalzamento del livello medio marino e quindi secondo il CNR, non secondo noi, la Pescara è una delle città più esposte a questi rischi. Per questo oggi noi facciamo questo sit-in, volantiniamo, informiamo i cittadini. Oggi si sta discutendo in Polonia la COP24 sul clima. Noi speriamo che vengano prese delle decisioni urgenti. In Abruzzo quali sono le decisioni da prendere? Dire no ai gasdotti fossili. Un gasdotto se lo realizziamo oggi dovrà funzionare per 50 anni e quindi arrivando al 2070, mentre invece nel 2050-2040 noi dovremmo aver abbandonato tutte le fonti fossili. Quindi no al gasdotto sul Monafoligno. Si può dire ancora di no, non è autorizzato. Il Larino Chieti, che purtroppo è stato autorizzato e abbiamo fatto ricorso. Gli ampliamenti e gli stoccaggi di gas non si può puntare ancora sulle fonti fossili, anche perché il metano, le ultime ricerche, ci dicono che è un pericoloso gas serra come la niricarbonica. Augusto De Sanzis, per concludere, fondi, grandi investimenti che potrebbero essere dirottati per altre opere? Beh, basti pensare che la TAV, se togliamo i soldi alla TAV, potremmo finanziare 3.000 scuole, la messa in sicurezza di 3.000 scuole per un'opera. Beh, forse la priorità è mettere in sicurezza dove vivono i nostri ragazzi e anche il nostro territorio. Abbiamo le bonifiche da fare, un territorio che per il 50% in Abruzzo ha perso l'acqua delle falde, per esempio che sono inquinate, bisogna risanarle. E questo è anche per il lavoro, si produce molto più lavoro investendo su tante opere sul territorio che non in unica grande opera che fa fare affari solo a chi la realizza.